Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco seguia quando parla di sinistra-destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta. 83esima puntata di Carta Canta. Che cosa succede ad Atri, alla giunta Stolfi? Vi ricordate il video che andò in onda in esclusiva a Teleponte su Carta Canta? Quando facemmo vedere il ritrovamento di resti umani nel cimitero di Atri? Fu aperto un istruttorio da parte del sindaco a Stolfi. Il risultato dell'istruttoria? Ai tempi lunghi della politica. Dovremmo forse aspettare che anche noi ospiti di un cimitero per avere la soluzione dell'enigma, vero? Già. Andiamo avanti. Oggi sarà un consiglio comunale ad Atri. Si annullerà una delibera. Una delibera che dava disposizione e la possibilità, il permesso a una società privata di costruire capannoni, uffici su di un terreno agricolo. Capita. Una svista. Parliamo di altro. Sempre al comune di Atri. Parliamo di un'altra delibera. Prima però vi leggo un comunicato stampa del sindaco a Stolfi, subito dopo questa delibera, circa 15 giorni dopo, quando i giornalisti la pubblicarono e ne diedero atto e motivazione. Andiamo a leggere. Il nostro atteggiamento nei confronti del concessionario del centro turistico, spiega il primo cittadino a Stolfi, è di attesa. Prima vogliamo verificare se ci sono i presupposti per la risoluzione del contratto, il che non vuol dire che vogliamo risolverlo. A Stolfi, sulla delibera c'è scritto il contrario. Mi sembra un po' la politica degli Antani. Preso atto che con nota acquisita numero tot tot tot, considerato che, considerato che, considerato che a tutt'oggi il concessionario si è reso inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, visto la nota eccetera eccetera, ritenuto che acquisiti che, delibera. Di conferire incarico legale all'avvocato Tizio Caio Semprogno del Foro di Terramo per l'attivazione dell'azione giudiziaria di risoluzione contrattuale per l'inambimento dei contratti della società concessionaria del centro turistico integrato, di cui al repertorio numerò Tizio Caio Semprogno, nonché al recupero coattivo dei canoni di locazione maturati nei confronti della società. Che significa? Carta canta. Carta canta. Grazie a tutti.